Ho appena finito di vedere Succession, serie meravigliosa forse, o la più bella o una senz'altro delle top 3 delle serie più belle che abbia mai visto in vita mia. Succession è prodotta da HBO, qua in Inghilterra si vede su Now TV, ed è in sostanza la storia romanzata, ispirata ai Marduk, ma in sostanza è la storia di questo magnate dei media e della sua famiglia, di tutti i figli. L'argomento centrale è ovviamente il potere, il business, peraltro se ti interessa il tema del business, formarti, informarti e conoscere dal punto di vista professionale, ti ricordo il.business, www.il.business, mio nuovo progetto, che da un lato è una community online e dall'altro lato sono anche degli eventi, primi evento Milano 5-6 ottobre, valla a vedere www.il.business, ma Succession è bella proprio per i rapporti, le relazioni, hanno spaccato un po' della cultura, il rapporto delle persone rispetto al potere, ai soldi, alla carriera, e poi tutte le relazioni che ci sono, cosa vuol dire vivere all'interno di una famiglia ricca, miliardaria, potente, quali sono le storture che si creano, quali sono le dinamiche che si innescano, insomma è assolutamente affascinante. Al volo alcune cose che mi hanno colpito, ovviamente il cast, attori, attrici strepitosi, alcuni, vabbè, Brian Cox, che rappresenta Marduk, scusa, dettaglio importante, la serie è ispirata alla famiglia Marduk, Rupert Marduk, in Italia ovviamente ha portato Sky, peraltro Marduk io l'ho conosciuto anche, una volta stretta di mano a un evento, pensavo che fosse l'usciere, perché era lì, non mi dava a dire, salve, era Rupert Marduk, chiusa la parentesi, e all'inizio la serie, da quello che mi è sembrato di capire, si chiamava Marduk, poi però per aspetti legali, cause possibili e cose del genere hanno detto, no, è ispirata a delle famiglie tipo quelle, e si chiama Succession, non si chiama Marduk, comunque il cast è spettacolare, l'attore che rappresenta il magnate di media è Brian Cox, attore incredibile, non ho parole per descriverlo, e nella serie si chiama Logan Roy, della famiglia Roy, poi c'è il fratello di Makulai Culkin, te lo ricordi bambino di Mammo Perso l'Aereo, che è strepitoso, e via via via, davvero tutti da Oscar, e forse il motivo per cui è così forte, funziona così tanto, è che i dialoghi sono meravigliosi, l'autore è inglese, ha un team di consulenti di tanti settori diversi, per replicare esattamente come vive un super ricco, i mega posti dove vanno, le vacanze sullo yacht, come sono realmente fatte, come avviene una riunione, un consiglio di amministrazione, di queste mega mega corporation, e questo team di consulenti autori ha finito per scrivere qualcosa di molto dettagliato, che deve essere credibile, ma con dei dialoghi che sono pungenti, ci sono un sacco di parolace, è un fuck, 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 un tipo, ma integrato bene, i dialoghi che sono riusciti a creare, sono una forza della natura, anche perché è una serie basata sui dialoghi, sono tutti dialoghi tra i protagonisti, per cui l'unico modo che hai per avere questo successo qua, Succession Succession, è quello di avere dei dialoghi pazzeschi. Le ambientazioni di Succession sono ovviamente pazzesche, vedi tutto questo viaggiare, Sai quando si dice, ecco i super ricchi che prendono e girano, un po' vanno tutti nelle stesse direzioni, negli stessi posti? Hai proprio questa sensazione delle varie tappe seguite dai potenti del mondo, non so, una roba del genere, e ti sembra di vivere dall'interno, un po' per la prima volta, com'è la vita realmente di quel mondo lì? Poi tutti gli intrighi, chiaramente, del potere, e i casini che si creano. Immaginati poter incidere sull'esito di un'elezione, poter incidere su quello che pensano le persone, perché hai in mano i media, hai in mano le informazioni, come cambia la tua visione del mondo? Come cambia la visione del mondo di una famiglia abituata sempre a ragionare così? Questa serie è in un qualche modo una sorta di metaverso, dove tu vedi come alcune persone vivano in un universo parallelo, dove alcune regole non esistono più, alcune logiche saltano completamente, hanno oltre e oltre il possibile, le dimensioni sono diverse. C'è una scena, ad esempio, dove i figli riceverebbero vari miliardi a testa, ma ti rendi conto che dopo un po', beh, in solo un miliardino non basta, uno o due miliardi non è che siano così tanto. Perché dipende in quali dimensioni sei abituato a stare. E anche tutto il discorso dei costi, come i costi siano relativi. Ad un certo punto, ad esempio, parlano di una cosa che non ti voglio spoilerare, e uno dice, eh, questa roba qua è costata 100 milioni. E l'altro fa, beh, ottimo affare, no? 100 milioni, ottimo affare. Case Succession, serie obbligatoria da vedere, sia per informarsi, ma anche per, così, divertirsi, perché comunque è una serie di grande intrattenimento. Un sacco di frasi, di citazioni, sono uscite chiaramente dalla serie, grazie ai dialoghi straordinari. Forse quella che riepiloga meglio tutta questa serie è quella che dice lui, Brian Cox e Logan Roy, che dà l'idea di quanto uno si possa sentire al di sopra di tutto, quando gli chiedono, ma no, guarda che questo non è un fatto, non è un dato, successo, una cosa del genere, e lui lo guarda, sempre con uno sguardo incazzoso e clamoroso, e dice, no, no, tu non hai capito, sono io quello che decide cosa è reale e cosa non lo è.